Tago a tutti e a tutti della tru disoligio in Amsterdam. Non posso evitare parole sui calcoli dell'impatto della Covimo. Perché, praticamente, dopo tre settimane, la curva è più buona, chiaramente. E qui è stato il nuovo che, dopo altri due settimane, non posso evitare le regole dell'impatto della mia vita. Da, questo instiga a me, penso, per il fatto che mi devono dare tempo al tempo. Mi è troppo chiesto, mi è troppo cambiato le regole, mi è troppo attento, che le cose crescono, e tutti possono guardare i risultati delle cose. E, veramente, la malsimilezza tra l'Italia e l'Italia non è così grande. E, veramente, spero che tutti, che tutti, che tutti, capabili, doni tempo al tempo, anta o l'ol, iugi, affero e agado. Resto con noi, un medito con noi. Grazie. 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 Agri Stem Tamamu. Grazie. Yeah. Eccoci qui. Io cerco. Alt'anno, l'articolio in ho dice, detto la esperantisto 1893, caimiestas iepagiot 181, sed la pripenso di Zamenhof ne rilatas nur all'esperanto, laumi. Scribas Zamenhof la sequainvorto, cia nova ideo devis batali longe cae malfazile, cae vi, signoro Xo, cae similai, chiui giuas nun la dolciain fructoin de tiui ideoi, vi eble ne havas ec supposeton pri la maldolcia svito, con ciu oni sia tempe semis tiuin ideoin. Ni, verai amicoi de lingvo tut monda, stia stiomaci trebone, cae ni laboras pazienze, 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 cae nec la tuta terura surdezo, ciu regas cirka uni, nec la mal curagigai, mal esperigai batoi de la sorto, ciu e ni rencontas sur ciu pasio, forpelos nin de mia voio. Bone, ciaina salmice tiu rilatas alla hieraua, facte, medito cia mi legis la unuan strofon de la poemola voio, cae char la temo estas ne de flankigi de la voio en la disvolvigio de afero por atingit selon. Cae shainas salmice tiui cii vortoi estas tre actualai. Ni vivas, mal curagigai, mal esperigai batoi de la sorto non tempe. Tut monde. Cai tiui batoi al venas sur nia promenado ciun pasion, cal foie, tamen, ni ne mal curagigiu. Ciel? Cia maniera on ni povas fari tion? Tio estas la demando. Cai mia respondo, cai tio estas instigo por cun medito cun vi. Estas la secvan. Ni firme credas ie la bonetso, robustetso, taugetso, cai indetso de la afero cio ni disvolvigias sur nia voio. Cai la principoi malantau la feromem. to ne temas priblinda fido, sed pli firma credo basita sur razzia cai imperia da tumaro, ni diru. Cai tio, cia danca al tio ni povas convinci aliain sur concretai argumentoi che la afero indas la promenaton cai compreneble cun promenadi estas pli e fiche opportune cae ancao felicige ol promenadi sole. Cai giuste protio mi volas profitti l'occaso danci vin por segui min tum tiom da. Episodoi 1 della medito serio au ec antaue ella antaua serio da videoi cronvirus tempe vivi. Cai a parte en la lastai en la lasta monato ni diru ciam ec estigis denove tru disoligio en amsardamo mi ciam gioias ciam mi ricevas commentoin reagoin instigoin ec criticoin prila medito serio do ne estu singardai ne estu dimemai el pasu cai reagu alla meditoi cial vi iam faras sed ec bli cai instigu aliaen secvi la meditoin mem dan dancon provi atento vere dancon gis morgau cai chiel ciam antauen sen fine o' 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 Grazie a tutti.